Salve a tutti! Bentornati nel mio canale. Continuiamo questa avventura che si chiama Resident Evil 7 e ultimamente siamo usciti di casa principale e adesso siamo in vecchia casa e cerchiamo il siero che può aiutarci. Bene, continuiamo. No, anche la nostra Mia è stata catturata per il figlio, quindi stiamo cercando anche lei. Allora, guardiamo nella scatola. Posso lasciare questa pistola rotta? Non ci serve in questo momento. Anche moneta antica. Ebbene, abbiamo questa statuetta di pietra e questo significa che dobbiamo usarla perché non possiamo andare dove si trova questa donna. Non sapevo che avrei dovuto fare questo indovinello per la terza volta ma non abbiamo la scelta. Bene, questo già sappiamo. E funziona così. Rapidamente. E funziona così. E funziona così. E funziona così. E funziona così. Per la guerra. No il problema. Questo non è il problema. Bene. E adesso ci siamo dall'altra parte. E possiamo finalmente andare di sopra. Oppure qui. Voglio provare questa porta prima di andare giù. Possiamo combinare qualcosa. Combustibile solido. Molto bene. Non abbiamo questa chiave. Bene. Sembra che questo piano di sopra è molto importante. Lì si trova questa medicina. Ma qui abbiamo bisogno di una chiave. E anche abbiamo visto una porta con questa chiave in casa principale. Io volevo controllare le mie armi perché ovviamente ci aspetta una battaglia in questa casa. No! Mi ha spaventato. Volevo usare il coltello. Va bene. Mi dispiace. Andiamo avanti. Manovella. Ah, possiamo aprire questo ponte che abbiamo visto nel video precedente. Il secondo il video è giusto in qualche modo. Sto faremo spaventare. La questa parte. No, no, no. Non voglio fare questo. Non voglio usare delle municioni. Ah, pensavo qualcuno arcezo l'aluce. Bene, abbiamo visto il checkpoint. Questo non mi piace, per niente. Dobbiamo ritornare. Purtroppo. Avevo paura. Bene, niente è successo. Possiamo avançare. Dobbiamo bruciare questi insecti. Beh, non c'è più. No, non c'è più. Mi sono sbagliato. Dobbiamo andare in giro. Oh no, non possiamo andare in giro. Questo è il unico modo di raggiungere stazione idrica. Non stazione idrica questa parte. Niente da fare. Oh, non c'è nessuno. Non ti preoccupare. Non voglio aprire questo armadietto? No. Perché? Non c'è nessuno. Molto bene. Siamo ancora vivi. Il servizio. Bene, apriremo questa scatola. Questa? Chiave. Corvo. Interessante. Non so cosa significa questa parola? Bene. Aha cosa significa questa parola? Aha cosa cosa. Dove possiamo usare questa chiave? Posso semplicemente esaminare questo oggetto. Una chiave attaccata alla testa di un uccello. Certo! Adesso possiamo aprire questa porta e anche una porta nella casa principale. No, no, no. È meglio andare così. Sono sicuro. Non c'è niente in questa scatola. Perché abbiamo già appreso. Una erba. Bene. Andiamo avanti. Una spaventa questa volta? Oppure no? No. Siamo riusciti a passare. Siamo riusciti a passare. Siamo riusciti a passare. Fuori. D'accordo, piccolo succhiacazzi, passiamo alle cose serie. Cosa serie adesso? Questi sono cose serie. Morirai in questo buco e vedrai che ti piacerà. Non moriremo in questo buco. Siamo riusciti a passare. Non si fa, mio caro! Non posso fare niente. Questo è quello che ti meriti per avere piccanasato dove non avresti dovuto! Cosa fare? Siamo riusciti a passare. È mia! È mia! È mia! È mia! Non è stata una buona idea. Ah, possiamo andare di sopra. Ho sprecato munizioni di fucile. ma non è il problema in questo momento bene possiamo aprire questa porta finalmente interessante questo è il secondo piano di vecchia casa bene ma che dobbiamo controllare tutti i posti cos'è questo? ah, qui bene, ingredienti necessari per il siero forse ci siamo forse no Zoe non ho visto questo telefono allora hai trovato il siero? ho appena sistemato tua madre e i suoi cazzo di insetti era meglio avvisarmi mi dispiace tanto ma per il siero? non l'ho trovato ma so cosa serve per crearlo una testa di serie D e un braccio siamo sicuri? una testa? dovrei averla da qualche parte davvero? ma per il braccio non hai idea hai cercato dappertutto? no, non ancora devo controllare il piano di sopra ok prova lì se c'è, vieni alla roulotte bene ho capito tutto dobbiamo trovare il braccio è una testa di serie D la testa si trova da qualche parte qui ma Zoe non ha nessuna idea dove cercare questo braccio interessante mi piace questo posto questo piano di sopra bene c'è il dono nella stanza segreta in fondo al piano di sopra e questo sarebbe il braccio adesso sappiamo di più andiamo avanti molto bene possiamo usare qualcosa per aprire questa porta e questo sembra la unica cosa che possiamo fare mi dispiace non volevo fare questo mi devo calmare un po non possiamo fare niente qui è un po strano bene bene proveremo a di uscire no non è vero dobbiamo seguirla ma che razza di pazzesco questo deve essere la madre non 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 altra scelta non volevo seguirli ma forse possiamo trovar qualcosa siamo fuori questo è il cancello che era chiuso ma adesso ci siamo dentro possiamo aprire sì molto bene non abbiamo spazio bene devo lasciare qualcosa nella scatola adesso bene non è il momento per terminare questo video questo possiamo lasciare anche le monete manovella perché no anche possiamo caricare questa arma molto bene adesso adesso ci vediamo cosa si trova da questa parte le scale le scale e anche le scale qui è un edificio ci abbiamo ci abbiamo molti obiettivi dobbiamo prendere una lanterna da margherite la madre questo è il nostro obiettivo principale in questo momento ma non possiamo entrare qui non mi piace che dobbiamo prendere qualcosa da margherite agente separatore non abbiamo niente da combinare bene combustibile questo possiamo combinare no non possiamo bene ah due erbe è buono ma significa che ci aspetta una dura lotta abbiamo questo grimadello cartucce incendiarie non l'abbiamo visto prima munizioni per il lancia granate non abbiamo nessuna lancia granate ma bene perché no dove si troviamo adesso serra sembra la stanza principale c'è una scattola un momento voglio controlla request aparte possiamo andare di sopra oh wow non so se questo funziona sembra che si andiamo avanti no no adesso vieni con me è ora di farla finita attacca attacca è sparita ma è molto bene che ho guardato a sinistra in quello momento abbiamo troppo spazio per controllare io ho preso vediamo come riesci a cavartela cosa sta succedendo non sono sicuro se possiamo combattere combattere la sembra che questo posto è solo per la battaglia battaglia interessante non perché questo è molto utile non posso curarci che non abbiamo questo medico non mi piace cosa ho fatto dovevo combinare questa erba non ho paura di questa donna è è non ho paura ma sono io chi voglio trovare te Tee Non rialzarti più, lanterna. Molto bene. Possiamo uscire da qui? Forse attraverso questa porta. Si. Soluzione medica. Molto utile. Bene. Possiamo salvare il gioco. Tutto in posto. E penso che sarebbe un buon momento per terminare questo video. Allora, grazie a tutti per aver guardato. Nel prossimo video parleremo francese questa volta. Allora, grazie e ci vediamo presto. Ciao. Ciao. Ciao.